La solidarietà a Milano viaggia gratis. ATM e il Comune di Milano hanno infatti deciso di donare degli abbonamenti gratuiti per i mezzi alla storica associazione dei City Angels, i volontari in giubba rossa e basco blu, che hanno come missione l'aiuto ai più deboli e che costituiscono allo stesso tempo un presidio per la sicurezza. In questo modo i membri dell'associazione potranno effettuare il loro servizio di solidarietà e cura anche a bordo dei mezzi pubblici e all'interno delle stazioni ferroviarie e della metropolitana, dove, soprattutto con il crollo delle temperature invernali, i senza tetto trovano riparo. Un'iniziativa che, ha spiegato l'assessora alla mobilità Arianna Censi, evidenzia una volta di più il grande ruolo che il volontariato e l'associazionismo svolgono per la città di Milano. In questo periodo così strano e così difficile, i mezzi di trasporto pubblico hanno rappresentato anche una forma di sicurezza, cioè sentire andare i tram, i mezzi pubblici, sapere che potevi far conto su un aiuto di questa natura è stato molto importante e oggi sapere che mentre prendi quel mezzo di trasporto pubblico c'è qualcuno che può condividere con te un pensiero, un'esigenza, un bisogno e anche l'idea di sentirsi più sicuri, secondo me è il senso di questa città. Nell'incontro che ho avuto con City Angels c'è proprio questa idea della sicurezza, che non è solo una sicurezza come dire fisica, ma anche l'idea di poter condividere una parola, il conforto della presenza e allora i mezzi pubblici spesso sono il luogo dove questa condivisione avviene. Quindi a me è sembrato giusto, alla Giunta, al Sindaco, a me, riconoscere attraverso questo gesto che è simbolico ma è anche il racconto della presenza nella città e nei luoghi del trasporto pubblico locale.